allora bambini prima di tutto non vi dovete preoccupare perché questa macchinina la rispiegheremo anche tante altre volte la divisione però adesso vi faccio un video così vi faccio un riassunto di tutto l'argomento di oggi mettiamo caso che io a scuola porto 10 pizzette eccole qua il 10 e a scuola siete solo 5 bambini che cosa faccio io le distribuisco faccio prima una alla volta va bene controllo ne posso dare ancora un'altra ogni bambino quante pizzette c'ha due nel linguaggio dell'alieno quello della matematica come si scrive così le 10 pizzette le ho divise in cinque bambini ad ognuno ne sono andate due 10 diviso 5 uguale 2 ho fatto una distribuzione che in matematica significa divisione facciamo un altro esempio io porto a scuola tre pizzette eccole qua a scuola ci sono solo beatrice e viola e dicono maestra posso avere una pizzetta ok una a te e una a te e a beatrice dice ma anche io ne voglio un'altra non te la posso dare beatrice perché se te la do tu ne hai due e viola ne è uno allora questa rimane resta si chiama infatti il resto come si scrive nel linguaggio della matematica erano tre pizzette le ho divise in due bambini ognuno c'ha una pizzetta a testa ma ne resta una eccola qua 3 diviso 2 fa 1 1 col resto di 1 va bene riascoltatelo un po di volte così le 10 ce l'avete più chiare baci